Buonasera, ringrazio il mio grazie, il Presidente dell'Avvocato Antonio Maria di Leva, per l'opportunità che mi offre di presentare il libro di una persona con la quale ho condiviso nel lavoro e condivido nella promozione della cultura 44 anni di vita. Giovane insegnante, arrivai a vivo e prete, vincitrice da pochissimo del concorso direttivo, la prima visita fu a casa dell'istrettore esposito dove fui accorto con tanta sintagia anche dalla moglie, la signora Flora, era emozionata in quell'occasione e da allora è continuato il nostro camminare insieme. Continuò a darvi del cuore, nonostante le tante sollecitazioni che ho detto da parte sua a dare del tutto, perché conservo e servo sempre il grosso rispetto nei confronti dell'istrettore. Lo ringrazio perché mi ha fatto fare un'esperienza di formazione particolarmente importante che mi è servita moltissimo nella carriera, perché era un'esperienza di formazione nazionale e poi sono diventata fornata. Ho seguito la scuola che ho diretto, prima da ispettore e poi da poco tante sono le esperienze e le chiedo venia per questa digressione personale, testimonianza dell'affetto, delle esperienze e dei sentimenti che mi legano all'istrettore esposito. L'istrettore esposito è testimone del valore della vita, è una persona che grazie alla cultura conserva conserva una vivacità, un disiderio, un progresso, un progettale che un giovane non avrebbe, proprio perché è persona corta, è persona di cultura, nell'accezione semantica del termine, coltivare, cultus è ciò che è coltivato, rispetto al neglectus, che è ciò che è abbandonato. E quindi l'ispettore si cura e cura, perché si prende cura della comunità in cui vive, da sempre. Il dato alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istituzione per 44 anni, ma non si è occupato soltanto di pedagogia italiana, ha avuto la possibilità di fare esperienze di pedagogia comparata, ha visitato le scuole in Germania, ha visitato le scuole negli Stati Uniti d'America, ha svolto attività di volontariato e attività di servizio, sempre con funzioni di vigenziali, con funzioni da leader. Questo gli ha dato delle capacità organizzative, una determinazione, un'efficacia nella comunicazione, che spende al livello di progresso della comunità. È giornalista, saggista, autore di numerose opere, di pedagogia, di varia umanità e di storie. Una persona come lui non poteva non occuparsi di politica. PORES, cura della città. E se ne è occupato con vari incarichi. È stato assessore, è stato consigliere. Ricordava, pochi minuti fa, all'amico Andrea Colonna, che è stato sempre, dalla parte dell'opposizione, è stato sempre in lungo perché voleva che la città migliorasse e che l'amministrazione si adoperasse e perché la città migliorasse. È qualcosa che continuo a fare ancora oggi. Dopo 44 anni mi ha dato in pensione. Allora tutti noi diremo, finalmente, si vode il veritato di posto. Eh no. Che cosa ha fatto? Ha raccontato intorno a sé una ventina di persone, tra queste anche io e mio marito. E ci ha parlato, chi viveva nella scuola, come me lo sapevamo, a quelli che non vivevano nella scuola, dell'importanza dell'apprendimento permanente. Ci ha parlato della necessità, della socializzazione, della necessità dell'impunto, soprattutto una determinata era, quando le persone andate in pensione, diventate diversamente giovani, hanno bisogno di stare in sé degli altri, perché altrimenti si chiedono in sé stessi ed ha fondato un po' diversità nelle tre età. Ecco, non nella terza età, ma nelle tre età, perché l'ha aperta a tutte le età. Secondo me è stata una delle cose più belle che ha fatto rispetto a te, perché l'impunto è di là da questo punto di vista, perché questa fondazione ha permesso alle persone, ripeto, diversamente giovani, di incontrarsi, ha permesso di sentire dei corsi storia, di interattura, ma anche dei corsi artigianali, perché c'è stato il recupero delle tradizioni, tipo i bambini confetti, tipo i centurini, tipo il chiacchierino, c'era una signora che per anni ha lavorato, che oggi non c'è più, che è un spray, e che ha insegnato il piacchierino ai giovani, quindi veramente una grande ricchezza. La penisola sovrappina ha le sedi, io lo dico, noi abbiamo il direttore di sede, il direttore di piano, che l'architetto è sposto, che veramente si occupa con grande cura e tradizioni di piano, come tutti gli altri, l'ispettore da 28 anni, divice, guida l'universo e l'architetto con io, con me, con competenza, e soprattutto con tanta, tanta passione. Ha scritto dei libri di storia. Chi apre il suo cuore al sentimento storico non è più solo, ma unito alla vita dell'universo, fratello e figlio e compagni degli istituti che già operarono sulla terra e vivono nell'opera che compierono, apostoli e martiri, geni creatori di bellezza e di verità, umile gente buona che spazzero balsamo di bontà e serbarono di managgine di vita. Così chiuse la sua memoranda relazione Benedetto Bruch, nel 1930, al congresso di filosofia tenuto ad Oxford. E lì dentro Bruch con queste parole ci fa comprendere il valore della storia. Oggi noi abbiamo la TV, internet, che sono senza dubbio dei mezzi vari, però che tendono ad appiattire, che tendono a valorizzare la simultaneità e quindi soprattutto i giovani non vivono la storicitazione dell'esperienza perché sono attratti dall'immediato, dal subito, tutto e subito. È vero che l'uomo è un essere pensante e non può rimanere, deve divenire, però non può neppure divenire senza verbalità. Il popolo è un popolo senza memoria storica e un popolo senza avvenire. Ricordo il verso di Virgilio, Antiquam e Spirite Madre, cercate l'antica madre, c'è la necessità di conoscere la storia per proiettarsi verso il futuro, come la quercia. La quercia affronta le sue radici nel terreno, a rumore che viene andesce dall'indietro, la quercia affronta le sue radici nel terreno, perché vuole essere forte e superare le erbe che invece trabbero un entrimento dalla superficie. E questo è un grande esempio che ci fa capire com'è importante conoscere il passato. È un signo di storia locale che lui ha scritto, di scrittura. Fino agli anni 30 la storia locale non era molto considerata, perché è diventato così, invece la considera molto scuola. I storici che non sono considerati i storici del villaggio, dopo il 30 invece c'è stato un grandissimo dibattito. C'è stato un grandissimo dibattito sulla storia locale, perché si è compreso che la storia locale vi permette di comprendere meglio la storia generale. E quindi questo libro scritto dall'Ispettore Esposto a questo libro ci fa comprendere attraverso le vicissitudini di Sorrento, nella penisola sorrentina di Amarco e di Capri, la storia nazionale. Che cosa dice l'Ispettore Esposto nella premessa? Ha scritto questo libro, dice il perché, lo dichiara apertamente, il cittadino sorrentino deve trarre motivi per conoscere il territorio e sentirlo come belle da tutelare e presentare, rappresentando che proprio per le sue caratteristiche è noto in tutto il mondo, è cantato in tutte le quelle, e visitato da milioni di persone ogni anno e considerato patrimonio non solo del pergolammo, ma dell'umanità. Vuole che il cittadino sorrentino di quanti, deve tutelare, preservare questo patrimonio e deve capire la bellezza del Presidente. Cioè tutti siamo convinti di questo, però quando già doveriamo che ciò avverrà, il fondamentale di preservare il proprio territorio, l'amore del territorio è qualcosa di importantissimo, è la cultura, è l'azione del mondo che permette, la cultura permette, il conservare il proprio territorio. Come titolo? Ha scelto la costiera dell'incanto. Ci spiega anche perché ha scelto questo titolo. Ha scelto questo titolo perché dice che tutti quelli che vengono di costiera, quando avviano i paesaggi, il primo aggettino che usano è incantevole. E quindi ha scelto di chiamare il testo costiera dell'incanto. Un incanto, dice, che esiste, ma che permarrà se noi faremo in modo che questo incanto continui e quindi se tuteleremo il paesatto. Il testo dimostra che il territorio è frutto dell'opera millenaria di chi ci ha preceduto, nel quale si sono formati e sviluppati tutti quegli avvenimenti che hanno contribuito a formarsi nella storia globale con i suoi rappresenti. La storia dei libri, in questo modo, non la viviamo come una storia stratta. E dentro il testo ci rendiamo conto che la storia che abbiamo studiato sui libri è una storia concreta perché attraverso la storia dell'uomo comprendiamo meglio la storia globale. L'escursus che fa il professore è puntualissimo. Il professore Laura, per sua evidenza, come dire, dice cronologico con tutti gli avvenimenti che ci sono succeduti. Comincia dalla prestonia con tutte le leggende, gli origini, il perché del nome e attraversa tutte le età con i principali avvenimenti. E quindi noi vedremo, noi vediamo l'età imperiale, prima la politità, poi l'età imperiale, le invasioni barbariche, gli saraceni. Ci parla del sacco di sorrento del 1558, il quale sorrento distrutta il regno delle inizie sicilie fino ai giorni russi con l'aggressione del paesaggio, purtroppo, e il turismo di massa. Lo stiamo vedendo. Poi si ferma dicendo che devo fermare perché se continuo a raccontare, racconterei la cronaca e non è compito mio raccontare la cronaca perché sto facendo lo storico. ci saranno poi quelli che verranno dopo che continueranno questo discorso e racconteranno a quelli che verranno che cosa è successo in questo periodo. Quindi il pregio grande dell'Opera è che evidenzia che la storia è una scienza sociale e che deve essere inserita in un ambiente geografico, economico, demografico. Perché questo testo ci fa conoscere le classi sociali. Io leggendo, ho rivisto anche delle persone che ho conosciuto, di cui ho sentito parlare, molti uomini, pensiamo Massaguano, oggi noi pensiamo Massaguano come una borgata, ma Massaguano è stato un centro culturale con un battonomeno in tempo. Quindi, importantissimo. Allora, conosciamo le strade, la marina in via, l'elettricità, i mezzi di comunicazione, le industrie, tutto questo. Come si è sviluppato nella penisola solentina e come si è sviluppato a livello nazionale? Anche molto, come dire, in ritardo rispetto a certe realtà nazionali. È un'immersione nella visita della penisola, con i suoi abitanti e con i suoi piccoli e grandi problematiche. E c'è la relazione dialettica, sempre, tra storia locale e storia generale. Sempre Benedetto Croce, che io amo molto, dice ho messo, anche in fondo, due piccole monografie di storia locale perché non ho saputo trovare nuovo per noi adatto o per quei due, in quelle storie di due minuscoli paese e danno vedere come in miniatura i tratti medesimi della storia generale raccontata nella parte principale del volume. È un libro che devono leggere i ragazzi, i ragazzi della coschiera, devono imparare ad amare i nuovi territori, devono formarsi in quella identità forte che non è assolutamente fisura, ma è un'identità che permette di conoscere e di comprendere le levità degli altri. L'ispettore Sposto, anche in questo libro, è un educatore, vuole che i ragazzi conoscano il territorio, lo amino e partecipino alla vita democratica e contribuiscono a difondere quelle idee di giustizia, di libertà verso le quali tutti noi alleghiamo. E poi, io concludo dicendo, grazie all'ispettore per questo libro che ci dà tanto e soprattutto non dimentichiamo, qui ci sono dei giovani, leggere e ricchezza, la lettura e vita sviluppano il pensiero, sviluppano la vita. Quindi, mi raccomando, leggere, leggere e ricchezza. Grazie.